L'esame non è andato come speravi, non è andato bene. C'è una strategia che ti può permettere di recuperare questo e tornare in carreggiata e continuare con tutti gli altri esami, perché può capitare una bocciatura, possono capitare dei voti che non sono quelli che speravamo, ma dobbiamo avere uno strumento per reagire e recuperare. Prima di parlare di questo, però, voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Troverai, basta inserire il nome e la tua mail, contenuti scaricabili, spiegazioni sia pratiche, anche qualcosina editorica che non guasta mai, contenuti che puoi stampare e tanto tanto altro. Quindi ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso. Tornando invece al video di oggi, vediamo velocemente la sigla e poi ti spiego qual è la strategia migliore per recuperare gli esami che non sono andati tanto bene. Vediamo quindi insieme qual è la strategia, e ti dico subito che è in tre passi, che devi utilizzare quando ti trovi a recuperare un esame andato male. La prima cosa che devi fare è ripartire dagli errori che hai commesso, che sono in un certo senso il motivo per cui o non hai superato l'esame o non hai ottenuto il voto che desideravi. Cosa devi fare per appunto ripartire dagli errori? Devi riprendere il materiale che hai studiato in tutte le sue parti, e questa cosa tornerà anche tra poco. Devi andare a rindividuare e segnare tutti gli errori commessi all'esame, a cui ti consiglio di aggiungere anche quelle cose che magari non ti sono state chieste, ma sulle quali hai dei dubbi, perché queste potrebbero eventualmente diventare un problema quando ripeti nuovamente l'esame, e infine segna tutti questi elementi su un foglio e monitorali durante lo studio fino alla successiva data dell'esame, perché il fatto che individuiamo gli errori e torniamo poi a ripassare non vuol dire che li abbiamo risolti, quindi monitorali in continuazione, in modo tale da non cadere nuovamente nella trappola, appunto nuovamente su questi errori. Il secondo passo di questa strategia è quello di ripassare tutto, e questo è molto importante perché tantissimi si concentrano quando rifanno un esame solo su ciò che hanno sbagliato e magari dimenticano ciò che hanno studiato correttamente, quindi non ti dico di studiare tutto da capo, ma di ripassare, e per tutto intendo, i libri di testo, o il libro se uno solo, appunti, schemi e mappe, cose che hai fatto tu che hai creato, o altro materiale didattico, slide, dispensa e quant'altro, sbobbinature che ti sono state fornite dal docente. In questo modo, ripassando tutto e col primo step che abbiamo visto prima, tenendo d'occhio sempre gli errori che hai commesso, riesci ad evitare di cadere nuovamente nelle trappole che si possono sviluppare e verificare, quando soprattutto la quantità di materiale che dobbiamo studiare è molta, o comunque la materia è stata particolarmente difficile in termini di concetti, contenuti, collegamenti e quant'altro. Prima di fare questo e di concludere comunque tutto il processo, questa strategia arriva a completarsi con il terzo step che è importante per qualunque tipo di esame. Devi allenarti a ripetere. Devi ripetere sia per gli esami orali, questo è un po' più ovvio, sia per gli esami scritti, e questa è una cosa un po' diversa rispetto al modo canonico di intendere la ripetizione. Ripetere è importante perché il nostro linguaggio dà forma al nostro pensiero e quindi anche a ciò che abbiamo appreso e memorizzato. Quindi quando ripeti, è più ovvio farlo e ottenere una buona ripetizione, la capacità di spiegare bene le informazioni per gli esami orali, ma anche per quelli scritti, anche perché ti trovi davanti a un test a risposta multipla e devi andare a segnare la risposta giusta, se hai ripetuto a voce alta i pensieri, cioè le informazioni per come le hai apprese, sono ben ordinate tra loro e riconosci subito quella risposta giusta tra le quattro opzioni, se stiamo parlando di un test scritto. Se invece l'esame scritto è a risposta aperta e quindi devi scrivere la risposta, hai deposizione di versi di chi, o magari un'intera pagina, allora è esattamente quello che faresti in un esame orale, solo in forma scritta. Quindi la ripetizione è importantissima e in questa, durante l'esercizio di questa tecnica, concentrati sugli errori che hai segnato nel primo step di questa strategia in modo tale da accertarti di aver risolto i problemi che ti hanno portato ad ottenere un risultato che prima non è stato quello che desideravi e quindi non è stato andato male e adesso con questa strategia sicuramente otterrai un risultato, dei risultati migliori. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi riguardo la strategia per superare delle difficoltà delle università che sono normalissime, non tutti gli esami vanno come desideriamo, quindi questo è un ottimo punto per ricominciare a ripartire. Se hai comunque dei dubbi o vuoi sottopormi una situazione un po' più particolare, non farti dei problemi a scrivere nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione, sono contento di poterti aiutare. Nel frattempo io ti ringrazio per l'attenzione, ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.